Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Baruno, in questo momento mi trovo a bordo di un aereo, un Boeing sto per partire, ecco sono in Malesia, questa è la compagnia sto per andare a Kuala Rumpur, un volo interno e diverse volte che prendo questo genere di aeree che hanno un difetto e questa volta qui lo filmo così, vediamo se parte una video denuncia come guardate questo particolare, vedete che lì c'è quella pinna rossa che evidentemente ha preso delle ammaccature si è addirittura, ha perso la vernice sull'estremità della pinna e in vari punti e questo accade, io poi ho osservato bene all'atterraggio quando il pilota aziona il motore, il reverse engine, il freno motore che in realtà poi non è un reverse engine perché il motore non gira comunque al contrario si apre questo portellone qua dove c'è questa pinna e va a cozzare sull'ala ecco vedete, questo qui è l'ala e lì c'è questo adesso non si vede che quello è un portellone, comunque quella parte lì arancione con la pinna un po' scrostata quando frena, va in frenata con il reverse engine si apre e va a cozzare esattamente sopra l'ala uno penserebbe che questi aerei sono tutti progettati con estrema cura e cautela in realtà poi ci sono questi bugs qui enormi c'è anche da dire che l'ala negli aeroplani tipo questo è in realtà anche il serbatorio del carburante ecco, ciao a tutti buon viaggio, buon volo